Ciao amici, lo zenzero non è solo un tocco gourmet per le nostre ricettine, ma ha anche tanti benefici per la salute. In particolare oggi parliamo di pressione. Ma lo zenzero non fa venire la pressione alta? E questa dove l'hai letta? Nei miei video parlo sempre di benefici provati dalla scienza, non dicerie. Oggi vediamo cosa dice la scienza dei benefici dello zenzero per la pressione alta. Se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. I benefici dello zenzero per la pressione alta sono stati dimostrati da una ricerca pubblicata sul Journal of Cardiovascular Pharmacology nel gennaio 2005. Lo zingiberene, il principio attivo che dà anche il sapore piccante, ha il potere di rilassare i vasi sanguigni con conseguente vasodilatazione, quindi riduzione della pressione del sangue e migliore flusso. L'azione antiossidante protegge i tessuti dai radicali liberi e dal colesterolo cattivo. Ha una lieve funzione antiaggregante, quindi riduce la formazione di emboli e trombi. Ma allora è pericoloso? Se ne mangi una cassetta? Non bisogna mai dimenticare che stiamo parlando di un cibo, non di una medicina concentrata. Tra l'altro, nel caso dello zenzero, se ne mangia in piccole quantità che aiutano il benessere, ma non hanno effetti clamorosi o irreversibili sulla salute. In ogni caso, nel dubbio, consultarsi con il proprio medico. Adesso condivido con voi due trucchetti per usare lo zenzero al meglio. Ma prima, per seguire tutte le nuove uscite, iscrivetevi al canale, è facile, con un clic così e attivate tutte le notifiche cliccando la campanella delle notifiche qui sotto. Scelta e conservazione. Io consiglio lo zenzero fresco, più completo e ricco di nutrienti. Le radici migliori sono sode, lisce e pesanti. Se lo consumate un po' per volta, potete tenerlo dentro un sacchetto di carta per alimenti, come il pane. Si conserva fuori frigo per qualche settimana e in frigorifero anche tre settimane. Come usarlo? Il trucco per avere i benefici dello zenzero è usarlo un po' tutti i giorni nelle nostre ricette, quindi non solo nelle tisane, ma anche nei dolci fatti in casa, con le verdure cotte, grattugiato sulle verdure crude, spremuto negli estratti o centrifugati di frutta e verdura e anche mangiato a crudo, in fettine sottili, come digestivo naturale. E voi come usate lo zenzero? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Mangia sano e vivi meglio! Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri e ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno sempre più trendy e sani, con Simona Vignali naturalmente. Ciao!